Siamo qua di sera all'ISIA, ISIA by Night, per fare un laboratorio di acqua forte, una tecnica non certo contemporanea, ma direi assolutamente medievale, in cui si sperimenta il tema del segno e del disegno, il tema del segno e del disegno che viene impresso in una lastra di rame attraverso l'acido, questo la corrompe e la corrode e poi si crea una piccola serie di lavori fatti ad arte, numerazione seriale, fogli di cotone e elaborati, per così dire, tra l'arte e la serialità. Questa copia qui è venuta meglio della prima. Allora, prima cosa mettiamo la lastra su un fondino di stampa che abbiamo preparato prima e poi mettiamo il foglio sopra. A l'ISIA abbiamo molte ore teoriche, ma oltre a questo abbiamo anche molte ore di laboratorio dove possiamo sviluppare progetti, elaborare un sacco di cose e grazie all'ISIA by Night abbiamo l'apertore del laboratorio alla sera e quindi possiamo sperimentare tecniche diverse dal solito, come l'acquaforte. Un laboratorio quindi non solo teorico, ma anche del fare, sporcandoci le mani, usando l'inchiostro, un qualcosa che non si può progettare nella sua interezza, ma si deve esprimere attraverso il gesto, attraverso il segno e attraverso gli errori che si producono nel lavorare attorno ad una lastra di rame e nello stampare gli elaborati grafici. Grazie! Spassionsi! Spassionsi! Grazie a tutti.